Il papà è positivo, asintomatico al covid e i due figli, poco più che ventenni, invece di restare a casa, escono. Accade a Stigliano di Santa Mere di Sala, dove i due ragazzi, sebbene al momento negativi, ma con il rischio, non improbabile, di positivizzarsi, decidono di non rispettare la prevista quarantena, uscendo come se nulla fosse, di giorno come di sera, incontrando gente al supermercato e riunendosi con amici e conoscenti per una birra e una pizza in compagnia. Il sindaco, Nicola Fragomeni, venuto a conoscenza del fatto e subito dopo le dovute verifiche con la ULS3, ha immediatamente allertato in forze carabinieri e polizia locale. Appena saputo questa notizia ci siamo subito mobilitati, devo dire grazie anche all'arma dei carabinieri, il maresciallo matriciano è stato un fulmine, abbiamo inviato, ha inviato una pattuglia in casa e fortunatamente erano in casa tutti e tre, che solo uno era positivo, gli altri due devono rispettare la quarantena. Gli abbiamo intimato di non uscire di casa. Preoccupato e deluso dal gravissimo comportamento dei suoi concittadini, che per i prossimi giorni, fino al 6 ottobre, saranno sorvegliati praticamente a vista. Lì attenzioniamo perché facciamo passare le ronde sia dei nostri vigili, sia dei carabinieri, in modo tale che non ci siano problemi o rischi per la popolazione. Ora saranno i carabinieri a ricostruire la rete delle persone con cui è entrata in contatto tutta la famiglia. Questi casi qua devono essere veramente attenzionati e responsabilizzati, perché forse non abbiamo capito bene di cosa parliamo. Il mostro è un mostro importante che non conosciamo, che ancora non ha mostrato bene le sue radici. Le indagini, appena avviate, mirano a capire se anche il papà, che sapeva di essere positivo, abbia infranto l'obbligo della quarantena, andando così incontro al nuovo reato penale di violazione del predetto obbligo, punito anche con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro. E tutte le persone che hanno di questi problemi o hanno sentito che qualcuno ha questi problemi, vi preghiamo di segnalarceli. Poi ci pensiamo noi, con denunce alla Procura della Repubblica e multe salate.